Chiude il convitto nazionale Cotugno. L'istituto scolastico presente all'Aquila da due secoli a settembre non avvierà le attività didattiche. Solo 18 gli iscritti a fronte del tetto minimo di 48 studenti imposto dai parametri ministeriali. Sui nostri territori i parametri sono già inadeguati da anni e attualmente siamo veramente in caduta libera. Vi dico soltanto che quest'anno sulla provincia dell'Aquila si perdono ben quattro dirigenze scolastiche perché abbiamo quattro istituti sottodimensionati. Da un punto di vista nazionale ci si comincia a pensare alla revisione dei parametri però non relativamente ai problemi delle aree interne e del territorio che poi sono quelli che ci riguardano particolarmente ma perché c'è comunque un calo demografico su tutto il territorio nazionale. E quindi si inizia a ripensare alla possibilità di rivedere i parametri che regolano i rapporti docente-alunno, classe-docente e così via. Il decreto di chiusura del convitto è arrivato questa mattina. A di fondo è stato l'ufficio scolastico regionale ed è la cronaca di una morte annunciata dato che lo stilicidio del numero degli iscritti era partito già da tempo. Nel silenzio generale della politica e delle istituzioni come denunciano la CGL Funzione Pubblica e la stessa dirigente scolastica del liceo Domenico Cotugno, Serenella Ottaviano. Nei giorni scorsi avevano sollecitato il comune dell'Aquila e il sindaco Pieruggi Bionde ad alzare la voce in difesa dell'istituto e avevano chiesto un incontro che non è mai arrivato. A incidere sul calo delle iscrizioni c'è la mancata ricostruzione del palazzo ottocentesco e quattro cantoni in centro storico di proprietà della provincia dell'Aquila, ancora puntellato a dieci anni dal sisma, simbolo triste della ricostruzione pubblica ferma al palo. Ma anche denuncia la dirigente scolastica il fallimento dell'Aquila Calcio che aveva con la giovanile iscritti da fuori provincia e da fuori regione che giocando per la squadra ed essendo in età giovanile frequentavano le scuole secondarie cittadine di secondo grado e risiedevano al convitto. Il convitto nazionale come molte altre istituzioni del territorio aquilano si trova attualmente in via Figara che è comunque una zona periferica, che è comunque una zona non ben servita dai trasporti pubblici e che diciamolo anche come abbiamo già detto non è una zona attrattiva. Non si tratta soltanto di perdita di studenti ma anche di personale docente e non docente oltre 20 per il solo convitto.